Ben ritrovati su Mobile Advisor, oggi andiamo a fare un confronto tra Netflix e Infinity, due servizi che offrono la visione di film e serie tv in streaming tramite smartphone, tablet, pc, console, smart tv o chromecast. Dividerò il confronto in quattro categorie che saranno interfaccia grafica, qualità dell'applicazione, contenuti e prezzi, ma iniziamo subito il confronto. Innanzitutto ho preciso che l'interfaccia che vedete qui su tablet è identica anche per gli smartphone, con l'unica differenza di essere chiaramente più grande. A livello di interfaccia vi anticipo che le due applicazioni sono simili e possiamo notare come l'interfaccia dell'app si è divisa per liste. Salta subito all'occhio la categoria continua a guardare che ci permette di riprendere la visione di film e serie tv lì dove le abbiamo lasciate. Tramite il pallino rosso ci possiamo spostare nel film o serie tv e tramite il tastino 10 possiamo tornare indietro di 10 secondi. Tornando alla home è presente anche la categoria la mia lista, suggerimenti per te i più visti su Netflix, avventura, horror e tante altre liste. Cliccando sui tre puntini invece in alto a sinistra si aprirà il menu che contiene tutte le categorie di film presenti su Netflix oltre alla sezione serie tv che contiene tutti i contenuti di quel tipo divisi per categoria. Andiamo ora ad aprire Infinity. Ci ritroveremo dinnanzi a un'interfaccia simile a quella di Netflix. Anche qui è presente la lista stati vedendo che è meno sofisticata di quella di Netflix poiché non consente di riprendere la visione in un solo passaggio ma ci costringe ad aprire la scheda delle serie tv in questione e trovare manualmente la puntata a cui eravamo rimasti. L'interfaccia come vediamo è simile a quella di Netflix. C'è un tastino per tornare appunto indietro oppure andare avanti di 30 secondi. Adesso torniamo alla home di Infinity e vediamo che come per Netflix abbiamo in alto a sinistra il tasto menu grazie al quale possiamo accedere a tutte le categorie di film e serie tv. L'applicazione di Netflix è molto ben funzionante sia sui dispositivi Apple che sui dispositivi Android. Mette in evidenza cosa stavamo guardando per riprendere velocemente la visione e la nostra lista. Inoltre potremo installare l'applicazione di Netflix ed effettuare l'accesso con il nostro account con un numero praticamente illimitato di dispositivi. Andando nelle impostazioni dell'applicazione invece sarà possibile regolare la qualità video in maniera tale da risparmiare dati. A proposito di consumo dati c'è da fare un plauso a Netflix poiché il loro algoritmo di compressione è davvero molto avanzato e ci permette, impostando la qualità su bassa, di vedere una puntata di una serie tv della durata di 20 minuti consumando circa 80 megabyte, laddove Infinity invece consuma almeno il doppio. Di contro su Netflix non è ben indicato quando un contenuto non sarà più visibile presso la loro piattaforma, cosa che invece accade su Infinity e non si può effettuare il download dei contenuti. Infinity invece ci permette il download di film e serie tv in maniera tale da non consumare dati nel caso siamo sprovvisti di rete wifi. L'applicazione di Infinity funziona molto bene sui dispositivi di casa Apple, mentre sui dispositivi Android è soggetto a crash improvvisi quando viene utilizzata ad esempio col Chromecast. Inoltre su dispositivi Android se ci arriverà una notifica o vorremmo fare altro e sospendere per un attimo la visione, quando andremo a riaprire l'applicazione di Infinity capiterà spesso che l'applicazione si riaprirà da zero. Una pecca grave di Infinity è che potremo vedere contenuti in HD soltanto da tv e console, mentre se vorremmo usufruire dei contenuti da smartphone, pc o tablet ci dovremo accontentare della definizione standard, cioè i 480p. Un'altra cosa che non mi è piaciuta di Infinity è che potremo installare l'applicazione soltanto su cinque dispositivi e una volta effettuato l'accesso su quei cinque dispositivi non sarà possibile accedere ai contenuti per cui paghiamo da altri dispositivi. Netflix ha una libreria in continua espansione. Basti pensare che hanno aggiunto più di 200 film e tantissime serie tv dal suo arrivo in Italia a fine 2015. Per gli appassionati di serie tv Netflix è il massimo, poiché ne possiede davvero tante e di qualità, ma soprattutto recenti. Fiori all'occhiello le loro produzioni originali che sono davvero ben fatte. I film sono di meno rispetto a Infinity, ma la qualità dei film e delle serie tv selezionati da Netflix è molto alta. Infinity punta di più sulla quantità. Infatti i film sono molti di più rispetto a Netflix, ma di una qualità mediamente inferiore. Per le serie tv Infinity è meno fornita rispetto a Netflix e molte delle sue serie tv sono ormai datate. Da segnalare che se siete fan delle fiction italiane Infinity n'è molto fornito. Per entrambi i servizi sarà possibile usufruire di 30 giorni di prova gratuita. Dopodiché, per Netflix, potremo optare per tre tipi di abbonamento, base, standard e premium. Con il pacchetto base, al costo di 8 euro, potremo usufruire dei contenuti di Netflix soltanto in definizione standard. Con 10 euro al mese, invece, potremo guardare i contenuti in full HD su un massimo di due dispositivi per volta. Con l'abbonamento premium di 12 euro al mese potrete invece vedere contenuti fino all'ultra HD su quattro schermi in contemporanea. Infinity ha un costo di 7,99 euro al mese, ma se dopo i primi 30 giorni di prova gratuita deciderete di rinnovare immediatamente avrete uno sconto e pagherete 5,99 euro per i primi 12 mesi, dopodiché 7,99 euro. Infinity ha quindi un solo tipo di abbonamento, che comprende la visione dei contenuti in HD da TV e console e la visione di contenuti in definizione standard da PC, smartphone e tablet. Potrete guardare Infinity su un massimo di due dispositivi in contemporanea e vi ricordo che l'accesso può essere effettuato su un massimo di 5 dispositivi. Infine voglio ricordarvi che il livello di prezzi potrebbe sembrare che Infinity sia più competitivo. In un certo senso è così, però su Netflix avete la possibilità di installare e di effettuare l'accesso col vostro account su un numero di dispositivi pressoché infinito e questo vi permetterà appunto di dividere più facilmente l'abbonamento a Netflix con magari degli amici o parenti, cosa che con Infinity risulterà molto più difficile perché può essere installato su un numero di dispositivi massimo che è uguale a 5. Quindi capite bene che effettuando l'abbonamento premium di 12 euro al mese su Netflix e dividendolo con 4 amici avrete questo servizio per soli 3 euro al mese. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti da Mobile Advisor.